E volevo ringraziare il Farset, perché oltre a fare questo qua, questo pochettino, il Farset ha deciso poi di guardare la festa a noi tutti quanti i tecnici, quindi vi ho invitato e vi ho invitato tutti quanti voi a capire che ci succede dopo la festa, i giorni della settimana che volevi andare al mare, se no va bene, va bene, va bene, va bene, E' un'altra parte, i nostri esercizi, i nostri esercizi, i nostri esercizi, i nostri esercizi, Grazie.